Verso le amministrative di Teramo di metà maggio, la lista Futuroin, confidando che la compagine alternativa all'amministrazione uscente rappresentata da Carlo Antonetti possa ulteriormente allargarsi, ha deciso di sostenerlo e di entrare a farne parte, offrendo fin da subito il proprio contributo di idee e programmi. Lo annuncia in una nota Giovanni Battista Quintigliani, coordinatore di Futuroin, il movimento civico che fa riferimento all'ex assessore regionale Paolo Gatti. La lista Futuroin ha incontrato l'avvocato Carlo Antonetti, ex presidente del Teramo Basket in Serie A. Nei giorni precedenti, aggiunge la nota di Futuroin, avevamo già valutato il quadro complessivo dell'offerta politica e delle candidature a sindaco annunciate o ipotetiche, riscontrando, non senza dispiacere, l'assenza di una proposta comune condivisa con la nostra tradizionale area di riferimento. Nell'incontro lungo ed articolato, spiega Quintigliani, sono stati affrontati tanti temi amministrativi insoluti, dalla questione ospedale alla ricostruzione pubblica e privata, dai servizi alle politiche sociali, fino alla perdita di appelle e di centralità della città di Teramo. Vi è stata un'ampia convergenza sul metodo di lavoro e sui contenuti e il rilievo che la figura di Carlo Antonetti spicca indiscutibilmente per capacità e autorevolezza personale. Dunque, dopo aver incassato l'appoggio di azione, c'è anche quello di Futuroin e così la campagna elettorale entra nel vivo e ogni giorno può riservare sorprese.